Per Radiofonica.com oggi siamo a Pretola, Perugia, alla Sagra del Cinema con il mitico registra di un film cult per la Puglia e non solo, sto parlando della Capagira. Con me è Alessandro Piva e voglio iniziare subito con due, diciamo, chiedendoti del film tuo più riuscito, diciamo, più conosciuto al grande pubblico. La Capagira, un aneddoto curioso del film senza che riprendiamo la storia che i fan stanno a memoria. Sto pensando, guarda, il primo giorno di ripresa, questo mi colpì all'epoca, il primo giorno di ripresa noi abbiamo subito capito che stavamo facendo un film che aveva un suo perché. Perché siamo andati a girare sui binari della ferrovia ed è subito arrivato, voi potete capire, è un filmetto con una truppa minuscola, senza permessi, è subito arrivato l'elicottero, perché l'avevano avvisato i ferrovieri. Dicevo, ci stanno dei matti vicino ai binari che stanno lì a... no? Che poi erano Pasquale e Minuicchio. E però sono arrivati e ci hanno lasciato andare. E poi abbiamo girato immediatamente dopo una scena che è una delle più riuscite del film, che è quella dell'inseguimento di Pasquale e Minuicchio, no? E anche quella delle bestemmie di Peppino. Ecco, diciamo, nel giro di un paio di giorni di quelle prime scene abbiamo subito capito che avevamo fatto qualcosa di bello. Anche perché quando mi sono reso conto che non avevo il ralenti e ho chiesto a Teodosio Barresi, alias Peppino, di farmi il ralenti umano, c'è riuscito benissimo. Non so se ricordi la scena delle parolacce di Peppino. Mocca la china da me, la murtaccia catanina, tutta quella roba lì. Sì, sì, ce la ricordiamo. C'è anche un ralenti che Peppino fa, lui personalmente, il ralenti umano fa... Ecco, questa roba mi ha fatto capire che eravamo tutti in palla, tutti pronti a fare un bel film, infatti così è stato. Sempre per noi amanti e fan, ci sarà un sequel? Ci sto iniziando lontanamente a pensare. Quando avremo, come dire, la maturazione giusta, magari ci torniamo sul luogo del delitto. Tra poco... Non sarà facile, perché vissare un film così indovinato, così giusto, quell'alchimia che non è facile ripetere, potrebbe deludere i tanti fanchi a questo film, quindi, come dire, è un rischio. Lo faremo con molta, molta attenzione, se lo faremo mai, ma ci iniziamo a pensare, diciamo così. Tra poco proietteranno, diciamo, un film più... non più serio, più serioso. Un tuo documentario intitolato Pasta Nera. Di cosa parla questo film? Pasta Nera è un documentario che ho fatto. A me piace fare cose molto diverse tra di loro. Pasta Nera è un documentario che racconta uno spaccato della storia d'Italia che, quando io l'ho scoperto, non ne sapevo minimamente l'esistenza. La storia di un movimento di solidarietà all'infanzia nato subito dopo la guerra che ha portato centinaia di migliaia di bambini del sud a essere ospitati per molti mesi, alcuni per anni, nel centro nord, in famiglie. Quindi questi bambini si sono ritrovati a 8, 10 anni, anche 6 alle volte, improvvisamente con una nuova famiglia, nuovi piatti da mangiare, una nuova lingua da ascoltare e da imparare. In un'Italia che faceva fatica a riprendersi dalle ferite del dopoguerra, secondo me è un episodio meraviglioso di solidarietà. È stato anche un pezzo della mia vita lavorare a questo, ricostruire questo affresco, perché se ne erano perse quasi le tracce, quindi io faticosamente sono andato a ritrovarmi un po' di testimoni dell'epoca e ne è uscito questo documentario, al quale sono molto legato. In discrezioni abbiamo saputo che stai lavorando un nuovo film, che si chiama I Milionari, giusto? Di cosa si tratta? I Milionari è un film che ho girato a Napoli in questi mesi, con Francesco Scianna e Valentina Lodovini, è stato da un libro che è uscito un paio di anni fa per Mondadori e racconta l'ascesa e la caduta di un clan criminale, che per un attimo sembrava avere in mano il paese e poi si è, come dire, dissolto o almeno ridimensionato molto in una guerra fratricida alla quale spesso si sottopone chi ha a che fare con il potere, con la sopraffazione. Una sorta di deriva shakespeariana, per cui la gente che ha un potere enorme, una quantità immensa, quasi inimmaginabile di denaro, poi si ritrova a vivere male. Ecco, il film parla un po' di questo, di quanto in fondo il potere fino a se stesso non serve a niente e serve altro per vivere bene. Speriamo che sia, come io ho provato a fare, un racconto di Napoli diverso dagli altri, nel momento in cui quella città è sotto l'attenzione di tutti i media del mondo. se non soppi. Allora, io prendo la macchina, faccio io una cosa adesso. Certo. Che facciamo? Sì? E l'intervisto, devi sapere che lui... Eh? Aspetta il microfono, non prende il microfono. Esatto. Lui è il fondatore della fanpage della Capagira su Facebook. Sì, è vero, sono stato io, lo ammetto. Anni fa, nel 2008, quando ancora Facebook non esisteva in Italia. Tempi non sospetti. E Nicola, con un atto di grande generosità e altruismo, mi ha concesso di gestire la pagina e gliene sono molto grato, perché mi hanno fatto un po' sfuggire tutto il fenomeno dietro questo film, il Tantam, che grazie a lui ho potuto gestire. Quindi adesso abbiamo 20.000 fan che, diciamo, procurati da te, che, diciamo, hanno notizie e aggiornamenti sul film. E quindi, Nicola, grazie, grazie ancora. Beh, era dovuto, perché il film è tuo, quindi non è che... Non lo potevo rubare, non è che... Io lo feci solo perché non l'aveva fatto ancora nessuno, quindi meritava il film e poi, giustamente, è tornato legittimo proprietario. Bene, allora, io direi che possiamo chiudere con un stato contemporaneo. Vai! Aspetta così. Ciao a tutti i mitici fan! Ciao! Ciao! ciao